fa freschino fa un freschino ci sono gli alveari di api nella casa qua vicino e si sente tutto il ronzio delle api nel mio albero di frassino sembra una musica anche le api cominciano sentire le giornate soleggiate però siamo ancora fine febbraio perciò non dobbiamo pretendere accontentiamoci che le giornate sono belle e la notte fa fresco ancora la prima cosa da fare mette la cintura avvio polle metto la prima e parto a a a a Mamma mia che sole, che era meglio se mettevo gli occhiali. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!